io questa mattina ho ascoltato un dibattito televisivo ed ho ragione a corona allo scultore corona non è possibile che ti entrino in casa a qualunque ora del giorno o della notte minacciando con l'incolumità della vita dei tuoi familiari dei tuoi cari e della tua e tu non ti possa difendere i politici e i giuristi dicevano che bisogna chiamare la polizia che non bisogna armarsi che non bisogna difendersi ma prima che arriva la polizia se arriva che hanno già accortellato 45 volte quindi io sono a favore della difesa privata il cittadino si deve difendere perché anche se ci fossero sufficienti poliziotti non arriverebbero mai a tempo quindi io sono con corona do ragione a corona bisogna difendersi faccio questo video per ratificare o rettificare quanto spesso prima innanzitutto mi sono ricordato che uno scrittore corona anche se già nello studio delle statue e poi che politici presenti nello studio del programma televisivo dicevano che ci deve essere la proporzionalità nella difesa personale ma questo è impossibile da verificare se a uno gli danno uno spintone e cade per terra e picchia la testa e muore non ci hanno bisogno di essere armati per ucciderti allora dal momento che entrano in casa tua tu hai il diritto di difenderti con un accia come nel caso di corona o con una pistola o con una motosega per me la difesa personale è un diritto sacrosanto nessuno ha il diritto di entrare in casa mia ed uccidermi o no